Benvenuti a questo nuovo tutorial nel quale voglio riprendere il discorso sul controllo remoto del desktop. Dico riprendere perché, come potete vedere qui sul mio canale, nel contenuto video del mio canale, ben addirittura accidenti già un anno fa, avevo caricato tre video che parlavano proprio di questo argomento, ma uno dei quali si basava sul controllo remoto che è possibile con il programma Empathy, che è quello preinstallato in Ubuntu per chattare, eccetera, eccetera, praticamente quello che sta sotto questa voce, chat, e permette appunto con un certo protocollo di controllare remotamente un altro desktop di un altro PC, così come il ben noto programma TeamViewer, ecco che avevo fatto un video in due parti, parte 1 e parte 2, sempre un anno fa, che parlava anche della possibilità di usare TeamViewer sotto Linux, che come saprete immagino TeamViewer è un programma per Windows, che però attraverso lo strato di compatibilità Wine può essere usato benissimo anche in Linux, ecco, quindi questo era quanto avevo presentato già un anno orsono. Nel frattempo però si è evoluta e ha preso consistente un'altra soluzione che trovo addirittura più pratica, per chi usa i browser Chrome o Chromium di Google, ecco, nel nostro caso in Ubuntu, quindi sotto Linux abbiamo la possibilità di installare facilmente Chromium, e usando appunto questo browser abbiamo a disposizione un'estensione da installare, che ci permette appunto di controllare remotamente, o di vedere remotamente, un altro desktop, cioè un PC distante da noi. E questo, per lo scopo principale, per esempio, di dare supporto a un amico, a un cliente, insomma, quando qualcuno è in difficoltà può contattarci e noi collegandoci remotamente possiamo dargli il dovuto supporto. Ecco, dicevo, da un anno fa adesso io sono passato personalmente a usare Chromium invece al posto di Firefox, e quindi mi sono trovato a disposizione anche un'estensione che è questa, che si chiama Chrome Remote Desktop, ecco il nome significativo, il link per arrivare anche voi sul Chrome Web Store a questa estensione da installare, ve lo lascio nella descrizione del video naturalmente, ed è questo, quindi non preoccupatevi in che se è lungo, ve lo lascerò da cliccare semplicemente, e quindi poi sapete, se usate già Chromium e avete già estratto delle estensioni, sapete come fare, qui in alto a destra nel pannello del dettaglio dell'estensione, se non è ancora installato, ci sarà il pulsante di installarlo, nel mio caso è già installato, quindi c'è il pulsante di avviare questa estensione. Comunque, mettiamo che voi sappiate come installare l'estensione, che non è una gran scienza, è molto facile, se clicca un pulsante fa tutto lui, basta seguire le istruzioni, se ce ne sono, e quindi ci ritroviamo installata quell'estensione. Dove ce la troviamo? Ecco, quando apriamo una nuova scheda nel nostro Chromium, ci troviamo, ecco magari spengo anche questa scheda che non mi serve più, ecco una nuova scheda, quindi aprite nuova scheda, e vi ritrovate le vostre estensioni barra applicazioni che avete installato nel Tempos, nel vostro browser, fra le quali c'è anche questo, icona con i due schermi, ecco come iconizza un po' lo scopo di questa estensione, quindi Chrome Remote Desktop. Fate clic, e vi ritrovate, il primo accesso, credo, se non erro, se ben ricordo, vi chiede il permesso di poter condividere eventualmente il vostro desktop, perché anche voi naturalmente potete avere il ruolo di chi condivide il proprio desktop, non solo che andate su un desktop di qualcun altro, ovviamente, perché di questi prodotti naturalmente il ruolo può essere sempre duplice, e qui vedete che in effetti c'è un pulsante con condividi, quindi voi volete condividere il vostro desktop, il vostro schermo del vostro pc, oppure volete accedere, o avete bisogno di accedere al pc di un altro, al desktop, quindi al video di un altro, e quindi usate il pulsante sotto accesso. Tra un attimo vediamo come funziona, e quindi ovviamente le due parti che vogliono condividere il desktop devono avere installati entrambi il medesimo prodotto, quindi Chromium di là, Chromium di qua, Chrome Remote Desktop di qua e Chrome Remote Desktop di là, ovviamente. Quindi diciamo che entrambe le parti hanno installato, sono già a posto, e uno dei due ha bisogno di essere contattato per un supporto, quindi io cerco di suddividere in due parti il mio schermo, possibilmente, perché dico in due parti? perché qui sulla sinistra ho il mio Chromium del mio pc presente qui davanti a me, fisicamente qui davanti a me, e nel contempo ho aperto, prima di iniziare a registrare questo video, ho aperto una macchina virtuale con Ubuntu 12.10 installato, e adesso mi accingo ad aprire il browser Chromium in questa macchina virtuale, sperando che non ci metta troppo, vi prego di avere un attimo di pazienza, perché già il mio pc non è un super computer, in più Ubuntu 12.10 nella macchina virtuale è piuttosto lento, e quindi dovete avere un attimo di pazienza. Comunque vedete che sulla sinistra, scusate sulla destra, sto lavorando in una macchina virtuale, perché? Perché sullo stesso pc, per presentarvi come funziona il meccanismo della gestione remota del desktop, simulo che nella macchina virtuale sono su un pc remoto, appunto, cioè distante da me. Potrebbe anche essere in Australia, questo pc nella macchina virtuale, è solo il concetto didatticamente per mostrarvi due pc diversi, quindi macchina virtuale, un pc sulla destra, la mia macchina vera, fisica, qui davanti a me, sulla sinistra. Ho già installato naturalmente il Chrome Remote Desktop anche nella macchina virtuale, e quindi il mio ipotetico contatto utente che ha bisogno del mio aiuto farà anche lui questa strada, cioè di attivare Chrome Remote Desktop e questa volta lui che ha bisogno di aiuto, preme condividi, ecco, appena preme il pulsante condividi, si genera un codice di accesso. Ecco che lo sta generando, eccolo qua, questo numero è da comunicare a colui che dovrà accedere al tuo desktop, quindi spostiamoci sulla sinistra, quindi si arriva a me, sul mio desktop, a me, e io premo invece di condividi ovviamente accesso, perché voglio accedere all'alto desktop, quindi premo accesso, e in questo momento devo conoscere quel codice numerico, quindi evitate di mandarvelo per mail che può sempre essere intercettato, e quindi qualcuno potrebbe furpiescamente impossessarsi del codice di accesso al vostro pc, ma telefonatevi per esempio, nel modo più semplice è, che ne sono, video chat se non avete il telefono, insomma qualsiasi cosa, ma non possibilmente evitate di mandarvi questo codice per mail, è molto più diretto e rapido. Una telefonata, la persona qui sulla destra, nella macchina virtuale, mi telefona e mi detta questo numero, ecco, adesso diciamo che sono al telefono, sento il numero, me l'ho imposto, 92360692, ecco qua, e faccio connetti, intanto l'altra persona che si aspetta l'aiuto da me, è lì e non deve fare nient'altro che aspettare che io premo connetti, dopo aver scritto ovviamente giusto il codice, e voilà, e dopo un attimo vedete che nella macchina virtuale è apparso un banner qui in cima con scritto il tuo desktop è attualmente condiviso con il morini gmail.com, che sono io, il mio account Google. L'account della persona remota sarà il suo account Google ovviamente, vedete che lui, lui intendo, lui o lei remotamente, può sempre disconnettersi da me, può interrompere con questo pulsante, e io nel frattempo vedo già il suo desktop, questo è esattamente quello che si vede sulla destra, io sto muovendo il mouse qui sulla sinistra, quindi sul mio PC, e vedo già, vedo il desktop controllato, lo posso controllare il desktop qui, che c'è nella macchina virtuale sulla destra, ecco, vedete che se io passo il mouse per esempio sul launcher, vedete che il fumetto nero appare quasi contemporaneamente a sinistra come a destra, perché io sto guardando appunto, sto controllando il desktop, posso magari aprire la cartella home, e vedete che le due icone pulsano quasi assieme, qua e là, perché ho mandato via rete il comando di, ecco qua, vedete, qui questo banner che un po' da fastidio lo posso spostare, così posso prendere il titolo della finestra e spostare, vedete che ovviamente sapete benissimo come è il controllo remoto di un desktop, è come averlo localmente, ma sapete che il PC è in qualsiasi parte del mondo, il PC che state controllando, e quindi qui appunto se la persona ha bisogno di aiuto, voi potete eseguire le operazioni che vi chiede, per mostrarvi il problema per esempio, e voi poi potete spiegarli e mostrargli effettivamente dal vivo, sul suo PC direttamente, come fare a risolvere il problema tal dei tali, ecco vedete io sono sempre sul mio PC fisico, qui locale da me sulla sinistra, muovo il mouse e a destra viene replicato tutto, adesso, è inutile che vi mostro chissà cosa d'altro, avete capito il principio, l'importante è poter arrivare sul desktop per controllarlo, adesso due cose, qualche osservazione, dunque, il disconnetti qua, è a disposizione della persona remota per sconnettersi, noi localmente che abbiamo acceduto all'altro desktop, abbiamo questa linguetta azzurra, che ci presenta, con chi siamo connessi, quindi questo è l'account Gmail, email della persona remota nella macchina virtuale, sulla destra, e anch'io ho la possibilità di disconnettermi, quindi ho terminato la mia operazione di aiuto, di help desk, come si dice in gergo, di aiuto, e posso disconnettermi, ho finito il lavoro, così come posso inviare dei tasti, e vedo che per il momento ho a disposizione, per esempio, un print screen, probabilmente se lo clicco, creerà uno screenshot, ovvero, una fotografia dell'immagine del desktop, possiamo anche provare, quindi io, remotamente, mando questo comando al pc remoto, e vediamo cosa succede, ecco, voilà, vedete che, sul pc remoto, quindi della persona che io sto aiutando, è arrivato il comando di eseguire un'immagine dello schermo, e vedete schermata, si è creata, vedete che si è creata la schermata, e si può salvare, magari qui, ecco, una situazione di errore, una situazione della soluzione, del problema, come appunto, per ricordarlo alla persona remota, che non si dimentichi come fare, potete sempre inviargli, un comando di screenshot, per mostrargli come era la situazione del desktop, in quel momento, fate salva, se no, in questo caso, non salvo, e cancello, oppure opzioni schermo, vedete, automaticamente, riduce adatta, quindi lui me lo fa vedere un po' più stretto, adesso ho suddiviso il mio schermo in due, vedete che è un po' strettino, oppure dimensione originale, diventerà più largo, identico a quello sulla destra, però devo scorrere, perché se no, non vedo tutto, allora è molto meglio fare riduce adatta, ma naturalmente io qui, sul mio schermo, ho suddiviso proprio in due finestre, per mostrarvi che di qua e di là succede la stessa cosa, ovviamente, quando si dovesse lavorare in una situazione effettiva, naturalmente potrei tranquillamente ingrandirmi, spostarmi il mio schermo e andare in dimensione originale ed essere un po' più aggioso nei movimenti e nello spostarmi nel desktop remoto, ecco, qui naturalmente per ragioni didattiche devo mostrare i due schermi nello stesso momento, ecco, quindi qui abbiamo il nostro menu, sulla destra l'utente abbiamo detto ha il suo, e voilà, tutto qui, quindi vedete è molto semplice usarlo, pochi comandi chiari, Chrome desktop, remote desktop è secondo me un'estensione molto utile, molto pratica, anche più dei vari programmi come TeamViewer, che comunque richiedono un'installazione, forse più complessa, più pesante, non lo so per il PC, però questa è semplicemente un'estensione nel vostro browser, non avete installato nient'altro che questa estensione, vedete che fa il suo lavoro più che dignitosamente, tenete presente, ultima osservazione, che qui sto lavorando sempre sullo stesso PC, nella stessa rete internet, quindi i due PC virtualmente remoto e locale, sono praticamente sulla stessa macchina, quindi risponde anche molto in fretta, come vedete reagisce molto in fretta di qua e di là l'immagine, nel refresh del desktop, tenete presente che magari se siete veramente distanti, potrebbe metterci anche un po' di più a rinfrescarvi l'immagine dello schermo remoto, tutto qui, ma questo vale per tutti gli strumenti di questo tipo, quando avete finito, dunque, o il vostro contatto di là o voi di qua, potete fare disconnetti, la sessione è terminata, vedete, io sono tornato sul mio Chrome desktop, remote desktop, sul mio menu, di qua, la mia persona che ho aiutato, si è staccata anche lei, quindi gli è stato confermato che questa persona adesso è staccata da me, può fare ok, si ritrova anch'essa di nuovo, nel pannello principale di Chrome remote desktop, e siamo a posto per ricominciare o per chiudere baracca, ecco, questo era quanto, spero come sempre che vi sia stato utile questo video, un saluto, e alla prossima, grazie. grazie.